... Grazie a tutti. 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 Grazie. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Sei a tutti. A tutti. a tutti. Deve rientrare Ero, quando ti metti i colpi devi rientrare, dai eh, vai avanti, vai avanti, non te ne andai, vai avanti, muovete sul tronco, bravo, dai ancora, via 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 Ero, non te fermai, vai, sinistra e cancionetti, vai via ancora, forza, via via, lavora, lavora, lavora la soffra, dai eh, ripeti le azioni, non te fermai, sinistra e cancionetti, su, dai, devi avvicinare Ero, prima vedi il colpo e poi devi avvicinare prima, dai adesso, adesso Ero, forza, sopra, via 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 via, dai, vai vai vai, non te fermai Ero, non te fermai là davanti, muovi il tronco, forza, metti quel cancio destro e poi mi dè che li fia tutti quanti, su, dai eh, fuori il cancio, fuori il cancio destro ce li devi mettere, forza, Piero, via, va vicino, va vicino a tutti tu, bravo, così, continua l'azione però, muovi il tronco, muovi il tronco, rientra subito, subito rientra, via, vai lì, adesso, il cancio destro Ero, e poi, va vicino a tutti i nostri spettatori, qui, va vicino a tutti i nostri spettatori, a tutti i nostri spettatori, vuoi me lo faccio? la notte una cosa di ieri, questa è la vedeva che mi fa... ma sta! mi vedeva la mascherita. A tutti, 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 a tutti... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. , 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